A questo ha portato il Gepensimi che, trasferiti in politica estera, è il rapporto personalistico. Con chi? Con dei dittatori, con delle persone autoritarie. E questo ci comporta oggi il silenzio, il mutismo. Noi dobbiamo reagire, il PD domani farà un sit-in al Pante, una Roma, diremo la nostra. Basta con le violenze, si fermi la repressione, si finisca col sangue che genera altro sangue, e si mette in moto una transizione verso un sistema più partecipato, che guardi oltre sistemi autoritari che nessuno sopporta più dall'altro lato del Mediterraneo. Qui ci vuole Europa, più fermamente, più decisamente. Ci vorrebbe un'Italia che con e per l'Europa guidasse la strada, indicasse la strada per l'evoluzione della situazione. Qualsiasi cosa si faccia adesso sui temi della giustizia è ad persona. Noi siamo prontissimi a affrontare, in un altro contesto, in un'altra situazione, problemi seri che ha il funzionamento della giustizia per i cittadini, non per il Presidente del Consiglio. Perché oggi in Italia chiunque venga accusato di prostituzione minorile va a processo. Noi siamo per ribaltare l'agenda e per dire che ordi mettere all'ordine del giorno non l'immunità parlamentare. Regole, onestà, sobrietà. Se non ripartiamo da un po' di civismo e se accettiamo che Berlusconi ci rubi tutti gli anticorpi che abbiamo per lo spirito civico, per una dignità della politica, noi non andiamo da nessuna parte. L'Italia è più debole. Con un governo del genere l'Italia è più debole. Lo vede chiunque. È più debole nel mondo, più debole nel Mediterraneo, più debole in casa propria. Non stiamo affrontando nessun problema. Noi diciamo che Berlusconi deve dimettersi. Punto. E diciamo che bisogna ricostruire questo Paese con delle parole che si chiamano onestà, sobrietà, rigore. fare le cose per bene e per far questo ci vuole un'alleanza di tutti quelli che vogliono andare oltre Berlusconi. Noi diciamo questo. Ciascuno si prenderà le sue responsabilità. L'Udc farà quel che ritiene, gli altri attrettanto. Noi diciamo che tutta la gente che vuole guardare oltre questa situazione deve trovare un'intesa su un programma utile a questo Paese.